Stava lavorando all'interno del suo capannone Marco Doveli, il 45enne titolare di una tappezzeria a Selvatelle nel comune di Terricciola, quando è stato avvolto dalle fiamme. Forse un attimo di disattenzione, un incidente, mentre lavorava con il mastici a caldo e il suo laboratorio è andato in fumo. Ha avuto successo qualcosa e poi ha cercato di spengere probabilmente. Dopo non ce l'ha fatta, è uscito fuori e a quel punto è stato soccorso. Quindi lavorava da solo? Sì, almeno per quanto ne so io, sì. È uscito da solo, comunque, sulle sue gambe? Sì, è uscito da solo e poi è stato soccorso da altri, ha chiamato l'ambulanza e è stato accompagnato in ospedale. L'ho visto uscire tutto un po' intontito, poi credo che all'ospedale non stia bene. Erano da poco passate le 10.30 quando l'uomo è corso in strada dopo aver provato inutilmente a domare le fiamme. A soccorrerlo alcuni vicini che lo hanno poi affidato alle cure del 118. Nel frattempo i tessuti contenuti nel capannone hanno alimentato il fuoco e fatto crollare completamente il tetto del magazzino. Quando siamo giunti sul posto l'ambiente era già invaso dalle fiamme in maniera totalitaria, mentre il ferito, l'unico dipendente dell'azienda, era stato già trasportato via dall'ambulanza. Quindi non abbiamo potuto nemmeno assistere la persona coinvolta nell'incendio. Causa la forte temperatura, il tetto autoportante della struttura si è collassato e quindi in questo momento facciamo l'opera di bonifica di messa in sicurezza dello stabile. Ecco e come vedete continua a uscire fumo ancora dalle macerie del capannone crollato. Sono ancora in corso le opere di messa in sicurezza mentre si guarda all'ospedale di Cisanello dove Marco Doveri è stato trasportato per curare le ustioni che lo hanno colpito su buona parte del corpo. Grazie a tutti.